E' stato un fine settimana all'insegna dei grandi appuntamenti, quello che ha chiuso la 22esima edizione del Festival Internazionale Castellemondi di Andria. Tre nuove performance ed altrettante repliche negli ultimi due giorni della maratona di teatro che, eccezionalmente, ha fatto tappa anche nelle città di Trani e Corato. Sabato sera, in uno dei luoghi più frequentati della manifestazione, Palazzo Ducale, è andato in scena Buonasera a Dottor Nisticò, spettacolo liberamente tratto dall'omonimo romanzo del giornalista e scrittore andriese Antonio Del Giudice. Un monologo magistralmente interpretato dall'attore Mario Massari nei panni dell'amministratore delegato di una banca coinvolto in uno scandalo di tangenti e costretto a vivere nella prigione volontaria della propria casa. Al Teatro Comunale di Corato è andata in scena invece la prima nazionale, in versione digital live, di Psicosis di Sarah Kane, replicato anche nella serata di ieri. Sul palco, l'ultima opera della drammaturga britannica Morta Suicida, un matrimonio tra poesia e musica, celebrato dalla Voce Sola di Maria Teresa Pascale. Due esibizioni nel fine settimana anche per Todolo Chesta a Milado, una delle performance artistiche che hanno maggiormente attirato il pubblico del Castel dei Mondi. L'incontro tra sette attrici ed altrettanti spettatori, ospitato in altrettanti letti matrimoniali che di volta in volta sono stati posizionati in diverse zone di Andria e nella giornata di ieri in Piazza Quercia a Trani. Successo di pubblico anche per lo spettacolo Fiori di Coraggio è andato in scena ieri sera in un altro doppio appuntamento a Palazzo Ducale. Un progetto organizzato dall'omonima associazione assieme al consultorio diocesano ASLBAT e centro di riabilitazione quarto di palo dedicato alle arti espressive delle diverse abilità. Già vincitore del festival Leidi, nato per coinvolgere le persone con disabilità e sensibilizzare le tematiche sociali. Chiusura tutta musicale con il Vertical Stage Show e DJ Set del Chiostro San Francesco a cura dell'Associazione Ulisse. Una festa finale all'insegna delle esibizioni dal vivo e delle sperimentazioni sonore per salutare ufficialmente questa ventiduesima edizione. Non un addio ma un semplice a tra poco. La Kermesse continuerà infatti con un ultimo spettacolo, Cappuccetto Rosso della compagnia La Luna nel Letto e dell'Associazione Culturale Tradire il Fare. L'appuntamento è fissato per domenica 14 ottobre al Teatro Comunale di Ruvo di Puglia.